Epici e numerici saluti a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di A Casa con Ulisse. Nella puntata di oggi analizzeremo insieme i contenuti del sesto libro dell'Odissea, dove avviene il bellissimo incontro fra Ulisse e Nausicaa, la giovane principessa dei Feaci. Nausicaa è una ragazza che si sta per sposare ma ancora non ha trovato l'uomo giusto, diciamo così, fra i giovani abitanti dell'isola. Una sera, in sogno, le viene detto di correre a lavare sulla spiaggia le vesti perché presto, appunto, potrebbe sposarsi. L'indomani, piena di entusiasmo e di aspettative, Nausicaa parte per andare proprio sulla spiaggia e lì incontrerà un uomo misterioso, un naufrago misterioso che ha bisogno di aiuto. Non indugiamo oltre, partiamo. Sigla! All'inizio del sesto libro, Atena si reca dai Feaci e quindi il poeta, il cantore, ne approfitta per fare un breve excursus sulla storia di questo popolo. Dunque, inizialmente i Feaci vivevano insieme ai Ciclopi, perché sia alcuni dei Ciclopi, sia il fondatore, diciamo così, dei Feaci, Nausito, erano entrambi figli di Poseidone. Soltanto che, a un certo punto, stanchi delle violenze e dell'inciviltà dei Ciclopi, i Feaci si erano allontanati, guidati proprio da Nausito, ed erano arrivati a Scheria, l'attuale isola, sostanzialmente, dei Feaci. I Feaci vivono in una sorta di bolla, perché non ricevono mai visite dal mondo esterno, sono protetti da Poseidone. E quindi l'isola dei Feaci è un luogo sospeso fra realtà e magia, i Feaci si sono costruiti il loro piccolo paradiso ai margini del mondo civile. Per esempio, il bellissimo Palazzo del Re è sorvegliato, pensate, da due cani d'oro e d'argento costruiti da Efesto, forse degli Automi, quindi forse dei cani robot, non viene detto in maniera specifica. Perché dico questo? Perché i primi robot, nella storia della letteratura, si trovano proprio non nell'Odissea, ma in un altro poema omerico, vale a dire nell'Iliade, libro 18, versi 417-419. Tetis sta andando dal dio Fabbro a chiedergli delle nuove armi per il figlio e viene detto che ci sono delle ancelle, delle serbe robot che proprio stanno aiutando Efesto. Dice così l'Iliade, due ancelle si affaticavano a sostenere il Signore, auree, simili a fanciulle vive, avevano mente nel petto e avevano voce e forza, sapevano le opere per dono dei nomi immortali. Quindi sostanzialmente sono delle servitrici robot che aiutano Efesto. Tutto questo per dire che ci sono nell'Iliade, nei poemi omerici, un po' i germi di tutti i generi della storia della letteratura, forse anche della fantascienza. Tornando all'isola dei Feaci, possiamo dunque dire che Scheria è un'isola senza nemici, senza violenza, è un'isola anch'essa ricca di giardini meravigliosi, dove tra l'altro le persone possono girare liberamente senza paura alcuna. Dopo questa piccola parentesi sulla storia dei Feaci, Atena appare dunque in sogno a Nausicaa, prendendo le sembianze di una sua amica, e la esorta ad andare al fiume che si trova vicino alla spiaggia a lavare le vesti perché presto appunto potrebbe sposarsi. Vale la pena qui soffermarsi un attimo sul valore che il sogno ha nel mondo omerico, perché è una concezione molto interessante. Allora dunque, innanzitutto il sogno nel mondo omerico è sempre un fatto esterno alla mente, cioè di notte se noi sogniamo al mattino diciamo, ah ho fatto un sogno un po' strano, nel senso che la mia mente ha partorito un sogno un po' strano. Invece i greci dicevano, ho visto un sogno, perché il sogno era sempre qualcosa che era esterno alla mente, quindi qualcosa che vedevi. In più il sogno è sempre rivelatore della volontà divina, e cioè il sogno è il mezzo attraverso il quale spesso gli dèi parlano agli uomini. Non a tutti gli uomini, in realtà, ma solitamente ai comandanti, ai capi, ai re, alle regine, principi, principesse, cioè alle personalità più importanti, proprio perché la volontà divina non veniva rivelata proprio a tutti, ma a chi aveva concretamente il potere di cambiare le cose. Spesso questi sogni nel mondo merico hanno un linguaggio simbolico, e proprio per questo spesso le persone greche andavano da degli oracoli, da degli indovini, a farsi interpretare i sogni. E infine, questa è la concezione più raffinata del sogno, spesso i sogni nel mondo merico sono espressione dei desideri inconsci. Per esempio, nel secondo libro di Liliade, Agamennone, proprio la notte in cui la sera prima ha litigato con Achille, sogna di prendere la città di Troia e sogna di prenderla senza Achille, proprio perché spera di prenderla senza l'eroe con cui ha appena litigato. E Nausicaa, quindi, sogna di sposarsi presto, proprio perché forse è anche e soprattutto un suo grande desiderio inconscio. Nausicaa è una fanciulla, una giovane ragazza, che aveva avuto 15-16 anni, quindi veramente giovanissima, che forse è anche un po' ingenua, ma nell'accezione positiva del termine. Non vede l'ora di sposarsi, di trovare l'uomo della sua vita, di mettere su famiglia, è fantastica su questa vita futura e di come sarà. Si sveglia, quindi, molto molto entusiasta dopo aver fatto questo sogno, e corre dai suoi genitori per chiedere loro il permesso per andare a lavare le vesti. Soprattutto lo chiede a suo padre. In realtà poi Nausicaa si vergogna un po' di nominare le nozze imminenti quando fa questa richiesta e quindi chiede soltanto di poter andare a lavare le vesti. Ma, e qui c'è una parte bellissima dell'Odissea che vi leggo, suo papà, il re dei Feaci, Alcino, intuisce che c'è di più, che sua figlia non gli sta dicendo tutto, ma da buon padre, come dire, non le nega quello che lei chiede. Dice proprio così. Nausicaa così diceva, perché aveva pudore a nominare le floride nozze al padre, ma lui tutto capiva e le rispondeva parole. Non ti nego le mule, creatura e nessun'altra cosa. Va, i servi prepareranno il carro alto, buone ruote, munito di sponde. Ecco, Nausicaa quindi può caricare sul carro le varie vesti che intende lavare, insieme a lei va anche un seguito di serve, di ancelle, e insieme arrivano appunto sulla spiaggia, dove ci sono delle specie di polle d'acqua che permettevano, di acqua dolce, che permettevano di lavare in maniera piuttosto agile le vesti. E Nausicaa e le sue ancelle fanno quasi a gara, no? Arrivano, mettono le vesti in queste polle, vedono chi le lava per prime, e poi, come delle ragazze giovani, che cosa fanno? Fanno una sorta di picnic sulla spiaggia e si mettono a giocare a palla. A un certo punto, per Nausicaa e per le ancelle, arriva il momento di tornare a casa. Proprio mentre si stanno passando e tirando la palla per l'ultima volta, qualcuno sbaglia un tiro e quindi la palla finisce lontano in una polla del fiume. E quindi le ragazze mandano delle grida, no? Per andare a prendere questo pallone, per sottolineare appunto il tiro sbagliato. A questo rumore Ulisse si sveglia. Ricordiamoci che avevamo lasciato Ulisse alla fine del quinto libro sfinito e svenuto dietro a un cespuglio, proprio lì sulla spiaggia. Ulisse non sa dove si trovi, non sa se sia la terra di amici o di nemici, l'unica cosa che sa è che ha un disperato bisogno di aiuto. E decide quindi di andare a chiedere soccorso alle ragazze. Si fa forza e esce dal suo nascondiglio, coprendosi le vergogne con un ramoscello. Ora, immaginatevi un gruppo di ragazze giovani, alla vista di un uomo che sbuca da dietro a un cespuglio, sfinito, sporco, incrostato di sale e di alghe, nudo, con un solo un ramoscello che appunto gli copre la vergogna, scappano tutti urlando. L'unica che rimane e che resta ferma è Nausicaa, perché Atena le infonde coraggio. Ulisse riflette un attimo, perché è indeciso se avvicinarsi e fare il gesto delle supplici, oppure parlarle da lontano. Solitamente i supplici, quando volevano richiedere una grazia o un favore, si avvicinavano a una persona e abbracciavano le ginocchia di quella persona. Ecco, Ulisse pensa che se lui, che è un uomo, nudo, va vicino a una ragazza giovane e le abbraccia le ginocchia, quest'ultima potrebbe fare intendere. E Ulisse non vuole in nessun modo spaventare Nausicaa. Così decide di parlarle da lontano. Ed è questo uno dei frangenti in cui emerge la metis di Ulisse, e cioè questa sua capacità di dire al momento giusto le parole giuste alla persona giusta. E il suo discorso ce lo leggiamo e lo commentiamo insieme. Siamo ai versi 149 e seguenti. Dice Ulisse a Nausicaa. Io mi ti inchino, signora. Sei una dea o sei una mortale? Se tu sei una dea, di quelli che il vasto cielo possiedono, Artemide, certo, la figlia del massimo Zeus, per bellezza e grandezza e figure mi sembri. Ulisse parte con un complimento. Ovviamente non lo sa, sinceramente Ulisse non sa se è di fronte a una dea o a una mortale. Ovviamente la prima dea che viene in mente a Ulisse, che è circondata solitamente da un seguito di minfe, di ancelle femminili, e proprio Artemide. E quindi la paragona subito a questa dea. Ma poi aggiunge, se tu sei una mortale, di quelli che vivono sulla terra, tre volte beati il padre e la madre sovrana, tre volte beati i fratelli, perché sempre il cuore si intenerisce loro di gioia, in grazia di te, quando contemplano un tal boccio, un tal bocciuolo muovere a danza. Ma soprattutto, beatissimo in cuore senza confronto, chi soverchiando coi doni ti porterà a casa sua. Mai una cosa simile ho veduto con gli occhi, né uomo né donna, e riverenza a guardarti mi vince. Beh, non c'è dubbio. Qui Ulisse innanzitutto ci sa fare con le parole. Immaginatevi questi bei complimenti che vengono proprio fatti a Nausicaa. Ulisse è furbo, perché intanto in maniera implicita le sta facendo capire che non tutti sanno parlare così, cioè se lui parla così vuol dire che è qualcuno di un certo rango e di un certo livello. E poi, guardandola, capendola, vede che Nausicaa è in età da marito, non so se sia ancora sposata oppure no, azzarda il fatto che magari possa sposarsi a breve, è indovina e dice tre volte beati la madre, il padre e i fratelli, ma soprattutto beato chi ti sposerà. E poi continua raccontandole un episodio, un aneddoto, che le fa capire, in modo tale da far capire a Nausicaa, che lui non è di nuovo uno qualunque, perché dice Quindi sostanzialmente dice Io ho fatto questo viaggio a Delo e avevo al mio seguito un innumerevole esercito. Non tutti potevano viaggiare a Delo e non tutti potevano avere come seguito un innumerevole esercito. Ulisse, in maniera delicata, ma comunque chiara, le sta facendo capire che lui non è un marinaio qualsiasi, uno qualsiasi, molto probabilmente è un principe o un sovrano. E continua con il farle questi complimenti. Ulisse poi le chiede aiuto, le chiede di mostrare la via per la città e di dargli un cencio qualsiasi per coprirsi. E poi conclude con un invito molto, con un augurio, scusate, molto azzeccato per Nausicaa, perché le dice Molta rabbia ai maligni, ma per gli amici è gioia e loro hanno fama splendida. Cioè sostanzialmente Ulisse le augura un matrimonio felice dove ci sia soprattutto complicità, dove veramente ci sia un forte legame fra marito e moglie. E Nausicaa, in maniera molto gentile, gli spiega, gli risponde, e gli spiega che si trovano nell'isola dei Feaci, che il re dei Feaci è Alcino e che lo aiuteranno sicuramente senza problemi. Gli darà una veste per vestirsi e poi chiede alle ancelle di lavarlo. Ulisse rifiuta garbatamente questa proposta, dice che se gli danno ciò che serve potrà lavarsi benissimo da solo perché non sta bene che delle ragazze così giovani lavino o aiutino a lavarsi un uomo maturo. Anche qui c'è un gesto rispettoso di Ulisse nei confronti di queste ancelle. E così, mentre Nausicaa e le ancelle rimangono lì e le ancelle si stanno riprendendo da questo principio di infarto che hanno avuto prima, Ulisse si lava, si cosparge d'olio, i capelli e il corpo esausto. L'Odissea racconta che più volte mette le mani e le unghie nella sabbia per togliere un po' tutto lo sporco che si era incastrato lì, si sciacqua, si toglie tutte le incrostazioni di sale e alla fine indossa questa veste. E per concludere il tutto Atena ci aggiunge anche un tocco di grazia e di vigore. Quindi quando poi Nausicaa vede Ulisse tornare indietro cambiato, rivestito, lavato, cosparso di questa grazia che gli ha infuso Atena, le scappa proprio un grande fischio di ammirazione, fa dei grandi complimenti, come dire hai capito questo naufrico? Che gran bel pezzo di manzo! E infatti dice, è proprio così, siamo ai versi 236-245, dice, fa questo commento alle ancelle, sentitemi, ancelle biancobraccio, che dica una cosa, non senza i nomi tutti che stanno in Olimpo quest'uomo è venuto tra i feaci divini. Prima, devo essere sincera, mi era sembrato che fosse brutto davvero, ma ora somiglia ai numi che il cielo ampio possiedono. Ah, se un uomo così potesse chiamarsi mio sposo, abitando fra noi e gli piacesse restare. Su, date all'ospite ancelle da mangiare e da bere. E a lui beve e mangiò, Odisseo costante e glorioso, avidamente da molto tempo era digiuno di cibo. Quindi, sostanzialmente, dopo che Ulisse si è lavato, si è rivestito, dopo che ha ricevuto questo gran bel complimento di Nausicaa, mangia e beve, cosa che non gli succedeva da giorni. A questo punto, Nausicaa, le ancelle e Ulisse ritornano in città. Per un po' viaggiano insieme. Poi, a un certo punto, Nausicaa fa una richiesta a Ulisse perché vuole evitare dei pettegolezzi, pettegolezzi della gente. Facendogli questa richiesta, però, in realtà, in maniera indiretta, gli fa anche dei grandi complimenti, in maniera un po' ingenua. Siamo ai versi 273 e seguenti, e dice, Voglio sfuggire alle chiacchiere amare, non voglio che nessuno mi sussurri alle spalle. Sono molto sfacciati tra il popolo. E dice, «E certo, un maligno direbbe incontrandomi chi è quello straniero bello e gagliardo che segue Nausicaa? Dove è andato a trovarlo? Suo sposo, certo, sarà. O un naufrago forse ha raccolto, disperso dalla sua nave, uno straniero lontano, giacché non abbiamo vicini. O un nome invocato dal cielo venne da lei mentre pregava e la farà sua per sempre». Qui è Nausicaa, che parla e cerca di spiegare a Ulisse che vuole evitare i pettegolezzi degli abitanti perché non vuole scontentare nessuno. Ma così facendo, rivela anche un po' quelli che sono i suoi pensieri ingenui da fanciulla. Allora, intanto di nuovo fa dei complimenti a Ulisse perché dice che è uno straniero bello e gagliardo, gli dice che potrebbe essere suo sposo, gli dice che è bello come un dio, un dio che magari Nausicaa ha invocato perché venisse giù dal cielo e la facesse sua. Quindi anche proprio queste sue fantasie un po' da ragazzini infantili di un dio che scende dall'alto, che viene e la fa sua per sempre. E poi continua. «Meglio se da se stessa Gerando ha trovato lo sposo altrove, tanto disprezza quelli del popolo suo, i feaci, molti dei quali e i più nobili aspirano a lei. Così diranno, e questo mi farebbe vergogna». Sostanzialmente Nausicaa vuole evitare questi pettegolezzi proprio perché non vuole che si pensi che lei ha disprezzato tutti i giovani feaci. Quindi, che cosa dice Ulisse? Per un po' facciamo la strada insieme, poi quando siamo arrivati davanti alla città, tu non entrare con noi, ma aspettaci un po' fuori dalla città, c'è un boschetto di Sacro ad Atena, tu puoi aspettarci lì. Poi, quando ti sembra che sia passato un po' di tempo, e in modo tale che noi siamo arrivati a palazzo, vieni anche tu, entra nella città, chiedi che ti indichino la via per il palazzo di Ancino e poi, una volta arrivato a palazzo, chiedi aiuto alla regina perché ti possa concedere la grazia di tornare a casa. Ulisse obbedisce e va nel boschetto di Atena ad aspettare mentre Nausicaa e le ancelle tornano a casa con le vesti lavate. Come si conclude il sesto libro? Il sesto libro si conclude con una prighiera di Ulisse ad Atena. La prighiera suona più o meno così Fa che io arrivi gradito ai feaci e che ispiri pietà. Dopo tanto dolore, dopo tanto patimento, dopo tante sofferenze, Ulisse ha bisogno di sentirsi accolto, al sicuro e tranquillo. Sarà proprio così? Lo scopriremo nelle prossime puntate.